L'arte non ti salverà, manco per idea, credimi. L'arte ti ferirà, ti brucerà i capelli, ti strazierà le carni, ti sfilaccerà le fibre dei nervi, poi ti metterà nudo davanti a uno specchio, al freddo cospetto dei tuoi occhi e ti costringerà a guardare le ferite delle tue guerre perdute. Le smagliature sulla pancia, il colore spento dei gomiti e le scorticature ancora vive sulle ginocchia e ti farà piangere dentro al cuscino la sera e ti terrà sveglio la notte, ti prenderà schiaffi di giorno davanti a tutti perché l'arte non ha pietà, non ha vergogna e sa scavare benissimo, con brutalità, dentro le cose tue, quelle che manco ti ricordi più hai detto una volta. Eh, quelle stanno tutte quante là, hai riconosciuto in seguito. Quelle sono la vita mia, oggi sai dirlo. E beh, se è così, se è così allora ti sei salvato. Fidice Casorati, la donna e l'armatura, 1921, Torino, Galleria d'Arte Moderna Fidice Casorati, la donna e l'armatura, 1921, Torino, Galleria d'Arte Moderna